Il pentastellato Rossi subentra Farzetti, Luca Stella, presidente del e l'undicesima commissione al posto di Scatizzi. Vicenda ATC, prosciolti dal GIP tutti gli accusati, i basai abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura. Il treno della memoria riparte verso la Toscana, la testimonianza della vicepresidente della provincia di Arezzo, Eleonora Ducci, progetto da preservare dai tagli. Servizi Caritas, prime proiezioni del 2014, il vice direttore Dalla Verde confermati i dati dell'anno precedente con il sostegno a 2200 famiglie. Nuovo acquisto a Maranto dalla Lupa Roma arriva a Testardi, domenica scontro diretto contro la Torres senza Capuano in panchina. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione su TSD. In apertura, come avete già sentito nei titoli, la pagina di politica. Consiglio comunale, il pentastellato Rossi subentra al dimissionario Farzetti, Luca Stella, presidente dell'undicesima commissione al posto di Scatizzi. Il nostro impegno, come sempre, è quello di ricevere qualsiasi proposta e qualsiasi cosa provenga dalla cittadinanza attiva, quindi associazioni, comitati e anche liberi cittadini, che però vogliono impegnarsi a cambiare veramente, mettendosi anche in prima persona con il Movimento 5 Stelle. Sono queste le prime parole da consigliere comunale di Roberto Rossi, operaio specializzato elettrotecnico attualmente in cassa integrazione subentrato al posto del dimissionario Daniele Farzetti. La prima seduta del 2015 per il consiglio comunale a Retino si è dunque aperta con la procedura di surroga. Poi, nel corso della mattinata, il neoconsigliere ha presentato una serie di interrogazioni, tra le quali emerge quella relativa all'intenzione, manifestata da parte di Nuove Acque, di aumentare del 6,5% le tariffe correnti. Chiedo di valutare a fondo la richiesta, ha sottolineato Rossi, per accertarne la reale necessità e non assecondarla prima di un'attenta verifica. Con la nomina di Rossi sale a due il numero di consiglieri comunali vicini all'operato del Comitato Tutela Valdichiana. Tra le tematiche che riguardano la vallata a Retina c'è anche quella inerente al progetto di riconversione presentato dalla PowerCrop sul quale il consigliere Pentastellato è intervenuto così. A fine gennaio dovrebbe esserci la sentenza del TAR che darà una svolta anche a questa vicenda. Noi speriamo in bene perché la regione, la provincia, il comune di Castio in Ferentino, il comune di Arezzo e tutti i sindaci della Valdichiana hanno detto no a questo progetto perché non propone nulla di buono per il futuro della Valdichiana. L'Assemblea Comunale è riuscita inoltre a ricomporre l'undicesima commissione consigliare dopo le dimissioni del presidente Luigi Scatizzi, quelle dello stesso Farsetti che ne era vicepresidente e quelle del consigliere Francesco Francini. Su indicazione di quest'ultimo e con 26 voti a favore è stato eletto presidente Luca Stella del PDL. Per dettato statutario la guida dell'undicesima commissione spetta infatti ad un membro dell'opposizione. I nuovi componenti oltre a Stella sono Luigi Luccherini, Roberto Rossi e Roberto Ruzzi. Rimaniamo sulla politica in comune con voi, dalle chiacchiere alle soluzioni. Questo è lo slogan scelto da Maria Cristina Nardone per candidarsi ufficialmente alle amministrative 2015. L'aspirante sindaco di Arezzo, che guida una lista civica, inizierà la sua campagna elettorale sabato 24 gennaio al mercato di Viale Giotto. Non c'è più tempo di aspettare i tempi della cosiddetta politica con le sue contingenze di sistema e patti generali, dichiara la Nardone in una nota stampa. Arezzo sta perdendo troppe occasioni per risollevarsi dalla crisi che ci avvolge. Quella che presenta è una squadra fatta di donne e uomini che non si accontentano di essere solo un codice fiscale, che vogliono essere cittadini e non utenti, essere attori e non comparse. La Nardone è amministratore delegato della Società di Consulenza e Formazione, STC Change Strategies, e nella mattina di sabato verrà inaugurato anche il suo punto elettorale in piazza Sant'Agostino. Mentre Arezzo pensa alle amministrative, la Toscana guarda alle primarie regionali PD in vista delle elezioni di maggio 2015, a sfidare il presidente uscente Enrico Rossi e Luciano Modica. A quest'ultimo va il sostegno dell'associazione Arezzo Possibile, che organizza per sabato 24 gennaio alle 15.30 un incontro pubblico con il candidato presso la libreria Mondadori in via Roma 15 ad Arezzo. Il gruppo aretino critica in particolare il centralismo nella politica regionale attuale e porta ad esempio i temi della gestione dell'acqua e quella dei rifiuti, e infine la riduzione delle ASL. C'è il rischio concreto, concludono da Arezzo Possibile, che la Toscana diventi periferia di Firenze. Il gruppo aretino aiuterà nella raccolta firme, ne sono necessarie infatti 9.000 entro la fine del mese per rendere valida la candidatura di Modica alle primarie. Vicenda ATC, prosciolti tutti gli accusati, Vasai così dice abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura. Vediamo. Nessun imputato verrà rinviato a giudizio. È giunta così al termine la vicenda giudiziaria che ha coinvolto gli amministratori provinciali e il segretario generale della provincia di Arezzo in merito alle indennità dei comitati di gestione degli ATC. È stato il GIP del Tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, a bocciare le accuse mosse nei confronti della vecchia amministrazione provinciale. Abuso d'ufficio per aver deliberato un compenso ai presidenti degli ambiti territoriali di caccia. Questa è l'accusa che veniva imputata, ma la vicenda è stata archiviata poiché non è stata riscontrata alcuna anomalia sull'operato dell'amministrazione. Fiducia piena nella magistratura. Nelle mie poche dichiarazioni su questa vicenda per noi è anche molto dolorosa. Abbiamo comunque sempre espresso questa fiducia anche perché pensavamo e lo pensiamo tuttora di essere stati nel giusto agendo conseguentemente a normative, a regolamenti della regione toscana che esistono e che nessuno li può togliere di mezzo. Questa è stata la prima volta nella quale si è ritrovato direi in modo anche appare il mio eccessivo, ma oramai questo siamo abituati, negli organi di stampa, nelle pagine del giornale, in una enfatizzazione della vicenda, a mio modestissimo modo di vedere anche eccessiva. Parliamo ora di lavoro, un tavolo istituzionale sulla vertenza delle lavoratrici di Magnosfera. Lo convocherà a stretto giro il presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, dopo l'incontro che ha avuto questa mattina con una delegazione delle lavoratrici della CAMST Magnosfera di Arezzo e con le rispettive organizzazioni sindacali. Le 14 lavoratrici saranno licenziate a fine febbraio con la chiusura del bar. La vicenda si inserisce nel contesto di profonda ristrutturazione della Galleria Sette Ponti con la previsione dell'apertura di nuovi spazi commerciali. Vasai ha inviato una lettera alle aziende interessate CAMST e UNICOP Firenze invitandoli a un incontro in sede istituzionale con le lavoratrici e le organizzazioni sindacali insieme alla regione toscana e al comune di Arezzo. E come nei giorni scorsi torniamo ad occuparci del treno della memoria che riparte verso la Toscana. La testimonianza quest'oggi della vicepresidente della provincia di Arezzo, Eleonora Ducci, è un progetto, quello del treno della memoria, da preservare dai tagli. Vediamo il servizio a cura dei nostri inviati, Lorenzo Canali ed Elena Pagliai. Si è concluso il percorso del treno della memoria, questo è l'ultimo giorno, si rientra ad Arezzo. Lei ha accompagnato gli studenti a Retini in questo viaggio emozionante? Sì, devo dire che è stata un'esperienza davvero intensa, proprio da un punto di vista anche umano. Assistere a un processo educativo e formativo così potente come è quello di questo viaggio. Andare a visitare i luoghi di persona sicuramente rende anche i ragazzi testimoni attivi di quello che hanno visto e considerato che i sopravvissuti, i testimoni di queste vicende ancora in vita, poi sono sempre meno se ci riflettiamo. Quindi è davvero importante fare in modo che i ragazzi, anche noi stessi amministratori, insomma è formativo non solamente per i ragazzi ma anche per noi, farsi appunto parte attiva di questa testimonianza. È possibile che esperienze del genere vengano limitate, vista la situazione, i tagli che sono stati fatti sia la provincia che in regione in questo periodo? Io mi auguro di no. Sicuramente la situazione economica non è delle migliori, però veramente vedere un numero così importante di ragazzi che in silenzio e con attenzione assistono a quelle che sono state le lezioni, le testimonianze, sicuramente ci fa riflettere, ci fa pensare che i tagli sì ci devono essere ma bisogna andare a cercarli, a cercarli sicuramente altrove. Ecco, questo è sicuramente una manifestazione, un viaggio talmente formativo e talmente importante che sicuramente non merita di finire tra le cose da tagliare o da ridurre. Giudizio positivo verso la proposta di legge della Giunta regionale sul riordino delle province che cerca di garantire i servizi ai cittadini e ai livelli occupazionali, ma il timore che tale progetto si dovrà scontrare con i limiti della legge di stabilità. Questa è la posizione con cui i dipendenti della provincia di Arezzo e i loro rappresentanti sindacali hanno incontrato oggi il prefetto di Arezzo, Saverio Ordine, al quale hanno presentato un documento da far pervenire alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I lavoratori chiedono in particolare la costituzione di un apposito fondo per coprire il periodo necessario alla definizione del trasferimento del personale, l'eliminazione delle sanzioni alle province per il mancato rispetto del patto di stabilità del 2014, il rinvio del taglio della dotazione organica e della dichiarazione di soprannumero, la salvaguardia dei posti di lavoro dei soggetti più deboli e la costituzione di una cabina di regia politica che consenta di fare accordi con tutte le istituzioni pubbliche per chi a livello periferico possano ricevere personale in mobilità. Odora la pagina di cronaca, sono stati individuati ed arrestati due dei tre responsabili del furto con spaccata avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio presso l'autogrill di Pieve Santo Stefano lungo la E45. I ladri incappucciati avevano sfondato le vetrine del punto di ristoro, avevano agganciato lo sportello Bancomat presente all'interno del ristorante e lo avevano tirato fuori, caricandolo quindi su un furgone scappando prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Dopo una lunga ricerca, i carabinieri di Pieve Santo Stefano e del nucleo operativo e radiomobile di Bibbiena hanno arrestato per furto aggravato un 37enne e un 24enne rumeni senza fissa di mora. Verso le 5 di ieri notte, nei pressi della E45, sono state individuate tre persone che alla vista dei militari si sono date alla fuga. Una, il 37enne, è stato fermato, portato in caserma e perquisito. Addosso aveva due marzupi contenenti complessivamente 39 mila euro. Nelle ore successive i militari hanno ritrovato in un capannone agricolo il furgone utilizzato per il furto, risultato rubato da un'officina di Brescia. Al suo interno sono stati trovati i resti dello sportello Bancomat. Nel primo pomeriggio di ieri è stato infine rintracciato in un casolare abbandonato in località Formole il 24enne che ha provato a fuggire ma è stato subito bloccato. Nel marzupio che indossava sono stati trovati circa 20 mila euro. Sono tuttora in corso le ricerche del terzo malvivente che dovrebbe avere con sé il resto del burtino del furto dell'autogrill che dovrebbe ammontare a circa 20 mila euro. I due fermati, entrambi pregiudicati, sono stati portati presso la casa circondariale di Arezzo. Servizi Caritas, prime proiezioni del 2014. Il vice direttore Dalla Verde confermati i dati dell'anno precedente con il sostegno a 2.200 famiglie. Vediamo. Immigrazione, famiglia, disabilità, dipendenze, casa e lavoro. Questi alcuni degli ambiti di intervento del Centro di Ascolto Diocesano che rappresenta il cuore dell'azione dei servizi della Caritas Aretina Cortonese Biturgenze. Si va dal sostegno alla genitorialità, al microcredito di prossimità e al prestito sociale per arrivare ai buoni mensa e spesa. In queste settimane è iniziata una prima analisi dei dati del 2014 provenienti dai servizi offerti dal circuito Caritas della Diocesi. Le prime proiezioni ci dicono che verosimilmente la mole di persone accolte e aiutate nell'anno 2014 sarà all'incirca lo stesso numero del 2013. Questo vuol dire sempre circa 2.200 persone barra famiglie. Sono numeri sempre importanti per questo territorio, sono situazioni alcune sempre più difficili anche da affrontare, complesse, dinamiche. Abbiamo bisogno di una rete collaborativa sempre più capace di affrontare i fenomeni di povertà. Un primo bilancio è stato stilato anche per quanto riguarda la Casa di Accoglienza San Domenico, nuovamente attiva dal 22 dicembre scorso. Abbiamo una presenza media serale di circa 17-18 persone, sono già più di 40 le persone che per periodi brevi o anche medio-lunghi hanno usufruito di questo servizio in questo primo mese. Faccio un appello a chi volesse contribuire sia con un servizio di volontariato presso la Casa di Accoglienza San Domenico, sia a chi volesse anche contribuire con offerte e donazioni a favore di questo servizio, che in questo momento non usufruisce di nessun contributo pubblico e sta facendo un ruolo sociale molto importante. E mentre proseguono le polemiche per la pista ciclabile in via Petrarca, nel centro di Arezzo, l'amministrazione di Palazzo Cavallo annuncia di aver vinto il bando regionale per la mobilità ciclabile in ambito urbano. Il progetto relativo alla pista ciclabile di collegamento tra la stazione e l'ospedale attraversando l'area del Pionta è risultato primo nella graduatoria dei progetti finanziati. L'intervento complessivo necessita di un investimento di 487 mila euro. Il finanziamento regionale corrisponde al 60%, mentre il restante 40% sarà a carico del Comune di Arezzo. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Franco Dringoli. Ed ora, come ogni giovedì, torna l'appuntamento con nessuno escluso, lo spazio del terzo settore e la rubrica di TSD dedicata alle realtà impegnate nel sociale. Protagonista di quest'oggi è l'associazione Spazio Studenti Hermes. Lo spazio di informazione sociale di TSD è inserito all'interno del progetto le abilità diverse della disabilità promosso dalla Caritas diocesana e finanziato dal bando CEI 8x1000. La rubrica è realizzata grazie al prezioso contributo di due inviati speciali Gianmarco e Paolo. L'obiettivo è quello di favorire il rinserimento sociale e lavorativo delle persone che frequentano i centri di urni dell'unità funzionale Salute Mentale Adulti dell'azienda USL 8 di Arezzo. Ma come è strutturato il lavoro all'interno di questa realtà? Quali sono le figure professionali che intervengono in queste attività? Nessuno escluso cercherà nella puntata di questa settimana di rispondere a questi interrogativi. A chi si rivolgono i differenti programmi come vengono stabiliti? Il nostro servizio è costituito da un'equipe multidisciplinare composta da psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali, infermieri e ciascuno nel suo ruolo in equip elabora insieme al medico un programma specifico per ciascuno. Al di fuori di quelle ore strette del laboratorio poi c'è tutto il mondo fuori per cui si fanno delle uscite sia ricreative che culturali si fa amicizia, si fa mangiare fuori, si fa al cinema, si fanno tante cose, gite eccetera. E questo diciamo che diventa al laboratorio un po' un'occasione, un pretesto poi per tirare fuori queste abilità che sono poi quelle della vita. Da una parte il contesto generale del centro diurno, dall'altra parte il programma del singolo utente due dimensioni che si intrecciano ma che mirano ad offrire un percorso individuale basato sulle capacità della persona. È così? L'obiettivo finale poi è quello di per ciascuno avere un livello di autonomia sempre maggiore o comunque quello adeguato al massimo che ci si può aspettare da lui. Ceramica e falegnameria, cucito e ricamo e orticoltura. Queste le principali attività svolte all'interno dei centri diurni in collaborazione con alcuni operatori delle cooperative Progetto 5 La Tappa. Nello specifico, all'interno dello spazio verde, è stata ristrutturata anche una serra grazie al sostegno dell'associazione Vivere Insieme. Oltre ai centri diurni canonici abbiamo anche l'interpersonale che è un centro diurno nel quale vengono fatte attività varie e quindi diciamo ha una sede che attualmente è sopra il bar del Domovecchio ma che però può essere anche una sede sul territorio perché poi vengono fatte attività il giornalino, attività dell'arte e terapia, vengono fatti dei gruppi di psicoeducazione, affidabilizzazione emotiva, insomma ci sono anche altre attività. Tra gli utenti del centro diurno dove si svolgono le attività di falegnameria ceramica c'è anche Stefania che dopo un percorso durato 10 anni adesso sta frequentando un corso di formazione per diventare utente facilitatore. Grazie infatti alle nuove competenze acquisite Stefania accompagna e guida altri utenti non autonomi all'interno delle differenti attività promosse dall'unità funzionale di salute mentale per adulti. Si fa dei piccoli lavoretti, io faccio gli orecchini e insomma non avendo dove andare ho trovato una famiglia, ho trovato degli amici. E siamo allo sport, oltre 200 atleti si sfideranno a colpi di racchetta nel torneo nazionale verde in programma per il 24 e il 25 gennaio nella palestra di via Leone Leoni di Arezzo. L'apertura sarà sabato mattina alle 9.30 con il singolo maschile, mentre alle 17 inizierà il doppio maschile. La giornata di domenica sarà dedicata alle donne singolo alle 9.30 con prosecuzione alle 14.00. A realizzare l'evento è l'associazione Tennei Stavolo Arezzo che è stata scelta dalla federazione in considerazione della sua storia sportiva e della confermata capacità di organizzare manifestazioni. E siamo all'Arezzo, nuovo acquisto a Maranto dalla Lupa a Roma, arriva Testardi. Domenica scontro diretto con la Torres, senza Capuano in panchina. I dettagli nel nostro servizio. Mentre si avvicina il 22esimo turno di Lega Pro con un altro scontro diretto ad attendere Yamaranto, da Viale Gramsci arriva l'ufficialità di un nuovo acquisto, l'attaccante Emanuele Testardi. Cinque presenze in Serie A con i blu cerchiati, nove nel campionato cadetto con il lanciano e un'esperienza nella massima serie ungherese con l'Onved arricchiscono la carriera di un giocatore che per avere solo 24 anni sembra possedere tutti i requisiti per far bene. Ho scelto Arezzo perché, come dicevo prima, è una grande piazza, ha una grande storia e c'è tutto per far bene. Confronto ad altre società che magari non hanno la stessa storia di Arezzo, una piazza come Arezzo. Qua c'è una tifoseria, c'è uno stadio importante, c'è tutto per far bene. Nella trasferta sarda contro la Torres a 27 punti in classifica, proprio come Yamaranto, non ci sarà Ezio Capuano, squalificato per un turno. Al suo posto in panchina, l'allenatore in seconda, Raffaele Esposito. Io ritengo che un allenatore, se bravo, deve preparare la partita durante la settimana, poi magari in panchina ci sarà Raffaele che è molto bravo, quindi sicuramente egli saprà leggere la partita e di apportare i dovuti correttivi. Per far posto ai nuovi arrivi il mercato Amaranto procede anche con le cessioni. Dopo Diana al Montemurlo, Vitiello, Alpoggi Bonzi, Morga, Alforlì, ieri Francesco Millesi è passato all'Ischia Isola Verde. Intanto le trattative per ulteriori innesti proseguono, questa volta si pensa al centrocampo. Sicuramente dobbiamo prendere un centrocampista, questi erano i nostri obiettivi dichiarati e poi dobbiamo valutare i tempi di Erpen. Sono infatti le condizioni del fantasista argentino a preoccupare l'intero staff Amaranto. Dopo l'infortunio rimediato nella gara di domenica scorsa contro l'Albino Leffe. Sono pessimista vedendo come egli ha avuto il trauma, però dobbiamo aspettare gli esami e poi avremo la certezza della durata dell'infortunio di Erpen. E con lo sport si chiude il nostro notiziario. Vi ricordo le previsioni meteo subito dopo la nostra sigla. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata su TSD.